Oggi in tutte le piazze d'Italia, CGL e Cisewil sono in piazza per chiedere una radicale riforma della legge Fornero sulle pensioni. Noi chiediamo una radicale riforma perché questa legge non solo costringe le persone a lavorare fino a 67 anni ma è una legge che creerà un paese di poveri. Quindi noi siamo per chiedere l'abbassamento dell'età pensionabile, siamo per chiedere la revisione dei contributi pensionistici per evitare che ci siano pensioni povere, per tutelare quelle migliaia e migliaia di lavoratori precari che rischiano di non avere una pensione dignitosa e per questa ragione noi chiediamo una riforma pensionistica per ripristinare il patto generazionale che con la legge Fornero è saltata, per dare pensioni dignitose e un futuro tranquillo ai cittadini italiani. Noi pensiamo che questa sia una priorità fondamentale per il paese, non solo da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista dell'economia di un paese. Questa è la ragione per cui in tutte le piazze italiane CGL e Cisewil protestano per chiedere una revisione sistematica della riforma Fornero.